Buongiorno carissimi, bentrovati in questo sabato della ventiquattresima settimana del tempo ordinario. Oggi la liturgia della parola ci presenta la prima lettura tratta dalla prima lettera di San Paolo Apostoli Corinti, siamo a capitolo quindicesimo, ascoltiamo i versetti 35 e 37 dal 42 al 49. Paolo ritorna ancora a parlare di resurrezione perché nella comunità di Corinto pare che ci sia una tendenza a voler dissociare il corpo dallo spirito, quindi si parla un po' di resurrezione, cosa sarà del nostro corpo e quindi Paolo parla del primo Adamo e dell'ultimo Adamo, parla dell'ultimo Adamo come colui che dona la vita nuova a tutti, nell'anima, nel corpo e nello spirito, tutto viene, è soggetto alla risurrezione perché essa stessa è una novità assoluta a cui nessuno ha fatto mai esperienza se non non il Cristo, il primo ad essere risorto. Quindi ci parla anche dell'importanza del corpo in un mondo secolarizzato nel quale stiamo, che il corpo certe volte lo si può idolatrare oppure lo si può strumentalizzare fino a denigrarlo. Ecco l'incarnazione di Gesù ci dice una cosa bellissima che anche dopo il peccato originale e dopo anche tutti i peccati che l'uomo può commettere, il corpo è ancora uno strumento valido per raggiungere i più alti fini della sua provvidenza. E sì perché il Signore ci chiede ecco di essere custodi del nostro corpo che è un dono per noi e per gli altri, un dono della creazione. Realmente questa verità di fede è dentro il nostro cuore, la nostra esistenza. Ecco c'è un corpo che ci è stato donato e una promessa di risurrezione. Ci crediamo veramente. La lettura del Vangelo di oggi ci porta al capitolo ottavo di Luca, ai versetti dal 4 al 15esimo. Si racconta della parabola del seminatore, più precisamente anche la parabola del seme perché gli occhi sono rivolti un po' sia al seminatore che esce a seminare, ma al destino anche di questo seme che cade lungo la strada, vengono gli uccelli e se lo mangiano, cade sulla pietra, comincia a crescere, ma per mancanza di umidità poi secca. I rovi invece soffocano lo sviluppo del seme, terreno buono invece c'è moglia cento volte tanto. Bene, chiediamoci anche noi oggi quale terreno possiamo essere nella nostra esistenza. E allora augurandoci che siamo, riusciamo con la grazia di Dio pian pianino a desiderare e quindi anche a diventare terreno buono per grazia del Signore, anche per il nostro desiderio. Ecco questa parola di vita, di risurrezione che San Paolo ancora una volta questa mattina ci rivolge, si possa annidare e incarnare, si possa proprio attaccare nella nostra vita e ci faccia solo e soltanto il vero bene. Bene, auguro a ciascuno di voi di vivere una santa giornata pensando al nostro corpo e pensando anche alla promessa che il Signore ci ha fatto. Un augurio particolare a tutti coloro che si chiamano Gennaro, oggi è festa, oggi è San Gennaro. E nello stesso tempo anche gli auguri più calorosi a un ragazzo della Puglia che oggi diventa sacerdote, quindi preghiamo per lui perché possa incamminarsi in questa in questa vocazione, vivere questa vocazione al cento per cento fidandosi e affidandosi al Signore datore di ogni bene. Un abbraccio coloroso a ciascuno di voi, buona e santa giornata.